Rossella, quali sono le certezze nella vita? La fede e la mia famiglia. Qual è il tuo rapporto con il tempo? Lo domino, sono una brava organizzatrice e raggiungo sempre i miei obiettivi. Com'è una giornata con Rossella? Mi piace andare al teatro, frequentare musei, gallerie d'arte, sfilate di moda e passeggiare nel verde della natura. Quali sono i tuoi colori preferiti? Il rosso, il giallo e il blu. Qual è il tuo fiore preferito? La rosa di marzo che piaceva tanto a mio nonno, però mi piacciono anche i fiori di campo che punteggiano giardini, aiuole e prati. Qual è la poesia che leggi spesso? L'inferito di Giacomo Lopardi. Quali sono i romanzi che ti hanno stupita da ragazza? La metamorfosi e il processo di Franz Kafka. Qual è l'incipit che più ti piace? L'incipit di Anna Karenina di Lelto Stoi. Tutte le famiglie felici si somigliano. Ogni famiglia infelice e infelice a modo suo. Quali sono i tuoi attori preferiti? Nando Cazzolo, Vittorio Gasman, Paolo Stoppa, Gabriele Lavia e tra le attrici prediligo Rossella Park e Vanessa Gravina. Quali sono i tuoi cantanti preferiti? Massimo Ranieri, Lucio Battisti e Beatles. Qual è la canzone che ti rappresenta? L'istrione di Charles Rossella Park. Qual è il tuo sogno nel cassetto? Aprire un caffè letterale e pubblicare dei libri. Qual è l'aforisma che ti rappresenta? Cogito Ergotube di Renato Cartesio. Un abbraccio barocco dalla vostra Rossella.